Ciao a tutti! Ciao a tutti, io sono Arwen e benvenuti nel mio canale. Oggi vi porto con me a Soratte, all'outlet. Stiamo andando e ci vediamo dopo. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Ragazzi, considerate che lo shopping ci sta distruggendo. Nel vero senso della parola. Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!